Buongiorno e ben trovati. I due fronti di guerra sono in primo piano sui giornali per le nuove posizioni che vengono assunte in Europa dalla Nato, da Putin e questo scontro globale, una guerra mondiale a pezzi, come la definisce il Papa, che passa anche per quello che succede a Rafah nel sud della striscia di Gaza con i tank israeliani che sembrano ormai in città e diretti anche verso il Mediterraneo, con Israele che nega l'ultima strage, la responsabilità dell'ultima strage, ma non si parla solo di questo sui quotidiani, si parla moltissimo anche del siparietto Meloni De Luca ieri all'inaugurazione del parco a Caivano, lo vedremo, e ancora tante polemiche per la frase del Papa. Cominciamo a dare uno sguardo ai titoli d'apertura dei quotidiani, sono davvero tanti, oggi partendo dal Corriere della Sera, Israele non si ferma, i tank a Rafah, armi per colpire in Russia, Macron e Scholz per il Via Libera e Putin attacca Stoltenberg. Il nuovo rei delle vittime, l'esercito ebraico che smentisce l'ultimo, quello di ieri, e poi il riconoscimento ufficiale di Spagna, Norvegia e Irlanda, come annunciato, allo Stato di Israele. Ecco in taglio centrale il Papa che chiede scusa dopo le parole sui gay, non volevo offendere, c'è spazio per tutti nella Chiesa, oggi i giornali più che tornare sul fatto in sé cercano di capire che cosa ci sia dietro, cosa sia successo, chi stia tramando contro il Papa e lo vedremo. Dal messaggero, armi contro la Russia, si allarghi il fronte del Stile, annuncio di Borrell, l'alto rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea, caduti i veti, ogni paese fa per sé. Tajani ribadisce la contrarietà dell'Italia e di Forza Italia, ma c'è l'asse Macron-Scholz con Kiev a un nuovo livello. Così sarà una guerra globale, dice il presidente russo Vladimir Putin. Questo asse Macron-Scholz lo ritroveremo tra poco su Repubblica in apertura. Macron-Putin, l'Europa trema per la stampa, Kiev deve poter colpire le basi russe, fa sapere Macron. Macron, lo zar, così la Nato vuole il conflitto globale, in taglio alto poi Meloni a Caivano lo scontro con De Luca. Adesso arriveremo anche alla politica con la presidente che incontra il governatore che l'aveva insultata e in un video risponde con le stesse parole. Dalla Repubblica l'asse franco-tedesco con Berlino che liquida Ursula. In questo caso l'asse è politico, il cancelliere Scholz è determinato a negare un secondo mandato a Ursula von der Leyen perché ha aperto troppo a destra. I Cinque Stelle cercano casa a Bruxelles, trattative per un gruppo con i rosso-bruni tedeschi e gli slovacchi del premier Fizzo. C'è un'intervista a Glucksmann, la sinistra argine contro i filorussi, vedremo anche questo. Continua ad analizzare invece la politica trattata dai giornali, dal giornale in particolare, non solo l'epiteto rimandato indietro al governatore De Luca a telecamere accese da parte di Giorgio Meloni, ma una svolta storica come la definisce Alessandro Sallusti, cioè il SID Quirinale per la riforma della giustizia. Il testo arriva al Consiglio dei Ministri, separazione delle carriere, alta corte per le sanzioni, perché parla di svolta storica Sallusti, come vedremo anche da altri giornali, c'è qualche interpretazione diversa su quello che è stato il SID Quirinale, per alcuni è un'I, per altri invece sono dei paletti messi da Sergio Mattarella, cercheremo di capire da che parte sta la ragione. Dal fatto quotidiano, impresentabili, lista di sette, ne mancano altri diciannove. L'antimafia ne cita tre di Forza Italia, due di Fratelli d'Italia, uno del PD e un Renziano. Un po' colosimo, un po' il regolamento di Morra, escludono alcuni reati e il fatto, come sempre, alla vigilia delle elezioni pubblica la lista di quelli che non avrebbero potuto candidarsi. Cita invece oggi Mario Secchi, un celebre romanzo, Jane Austen, Bergoglio e pregiudizio nel titolo Cala il gelo sul Vaticano, la sinistra bastona il pontefice per le frasi sui gay, Francesco alla fine si scusa ma non smentisce nulla. È finito l'amore con i progressisti. La lettura di Caivano, sono la stronza, Giorgia Spiana De Luca, il governatore l'aveva insultato in un video, il premier, glielo ricorda, stessa musica anche sul tempo, rinasce il parco della Camorra, quella stronza che ha ripulito Caivano, è difficile anche evitare la parola oggi sui giornali perché è la notizia stessa come ieri quella del Papa, diciamo. Meloni incontra De Luca e risponde al suo insulto, il premier, così lo Stato può fare la differenza, c'è Don Patriciello, intervistato, che dice, grazie Giorgia, lo vedo e non ci credo. Dal tempo a domani, sull'altro fronte politico, Fittipaldi oggi titola così, sullo stesso argomento Meloni, dietro le parolacce il nulla, tutti i tagli del governo ai comuni. La premier Bacca e Ivano, il ride De Luca, la strategia d'attacco organizzata a tavolino, mentre la leader punta al popolismo più becero, la destra da mesi riduce i finanziamenti agli enti locali. Ci spostiamo sulla verità, torniamo al Papa in questo caso, se tocca i gay, il Papa Pop non piace più. Francesco si è scusato ieri, non volevo offendere, chi osannava Bergoglio per il suo parlare schietto, adesso lo mette alla gogna perché sbarra la porta dei seminari agli omosessuali, usando un'espressione volgare. Ma quello che non piace è il concetto che fu di Papa Ratzinger, tanti vorrebbero sdoganare i preti arcobaleno. E poi, subito sotto, Meloni che sistema De Luca in un frame del video che ieri in pochi minuti è diventato virale. Che lettura fa avvenire del recupero di Caivano? Un giornale che ha sempre cavalcato questo cavallo, parlando anche con Don Patricello, si riparte a Caivano, rinasce il centro Delfini a 5 ettari per lo sport a teatro, a 300 metri dal Parco Verde. La premia Meloni si vendica con De Luca, salve, sono quella che ha insultato, inaugurato con tre giorni di anticipo, apre uno spiraglio per altre aree urbane che sono sicuramente degradate. Il mattino che sicuramente, essendo il quotidiano di Napoli, ha seguito più da vicino le vicende anche di cronaca relative a Caivano. Oggi riporta su questo un'intervista a Giorgia Meloni, Caivano dal degrado a modello per l'Italia. Il destino del sud non è vivere di sussidi e assistenzialismo, dice tra le altre cose Giorgia Meloni, ma di lavoro e sviluppo. La nuova coesione mette il mezzogiorno nelle condizioni di competere ad armi pari. E dall'intervista a Giorgia Meloni sul mattino al resto del Carlino, un attimo che cerchiamo di recuperare la pagina. Eccola qui, gay nei seminari, le scuse del Papa, la sala stampa vaticana dopo la gaffa, il pontefice. Non volevo offendere né usare termini omofobi, nella chiesa c'è spazio per tutti. Foto del giorno dedicata all'inferno di Raffa. Dobbiamo andare veloci perché abbiamo veramente moltissimi giornali oggi, ma su ognuno c'è qualcosa di interessante. La notizia, i profitti di Leonardo volano grazie alle guerre, ma allo Stato vanno solo. Gli spiccioli, scrive oggi Giulio Cavalli, parlando dell'aumento di fatturato di Leonardo, il manifesto sempre sugli esteri, lo Stato delle cose, con l'allusione al riconoscimento dello Stato di Palestina da parte di Irlanda, Norvegia e Spagna. Ma allo Stato delle cose, anche quello che viene mostrato in uno degli scatti di ieri, di quello che è successo nel campo di Raffa. La rinascita di Caivano, lo Stato c'è per il secolo d'Italia, che è il quotidiano di Fratelli d'Italia. Ci sono un paio di interviste oggi, a proposito di politica, a Elislein su due quotidiani locali, per far capire com'è la campagna elettorale, poi Scaldi, poi sugli argomenti che interessano alle persone. La Gazzetta del Mezzogiorno parla di elezioni, sì, ma quelle che riguardano Bari. Il voto nel pallone, forum con i candidati sindaci, ma non si parla del baricalcio, che è un argomento che sta a cuore a moltissimi elettori. Evidentemente le ricette sulla sicurezza in città. Dicevamo dell'intervista a Elislein, ce n'è una anche sull'Unione Sarda, l'autonomia differenziata aumenterà il divario tra regioni. Più che l'intervista a Elislein, vi faccio vedere questo giornale, perché da giorni c'è questa battaglia su quello che potrebbe essere lo scenario sardo alla luce delle decisioni che passano anche per i soldi del PNRR, si rischia uno sciario industriale. È l'allarme della soprintendenza, il paesaggio sardo è nel mirino, perché c'è la proposta di estendere il PPR a tutta l'isola, che rischia di diventare un enorme campo eolico per molti o peggio. Il foglio, vi faccio vedere solamente ciò che riguarda gli esteri, nel nord di Israele avanza il vuoto e sbolla ne approfitta, perché oggi il foglio accende un faro su quello che è un altro fronte di guerra che finisce inevitabilmente spesso in secondo piano, cioè quello che sta succedendo a nord di Israele a confine con il Libano. Per i cittadini evacuati dalla Galilea il futuro ha due numeri, il 7 ottobre, giorno dell'attacco di Amas, oppure il 17.01, che è la risoluzione ONU, è la data che sancisce il fatto che non possano esserci delle milizie non riconosciute nella zona sud del Libano, cosa che invece accade con la presenza di Hezbollah, che potrebbe per molti ripetere quello che ha fatto Amas nel sud di Israele. Partita IVA dalla flat tax, 3 miliardi e 2, è in sole 24 ore, le notizie economiche passano anche per questo, il 49,2% di lavoratori autonomi ditte professionisti paga meno, l'imposta media è salita a quasi 2.000 euro, con una crescita di quasi 90 in 5 anni. Non c'è solo questo, oggi Milano a Finanza ci ricorda anche la questione Montepaschi-Siena, un faro sugli aiuti di Stato, il GIP infatti ordina, scrive oggi e sommella, un'indagine su bilanci e vertici degli anni dal 2016 al 2017, l'ipotesi è quella di falso nei conti per accedere alla ricapitalizzazione. Altra notizia la prendiamo da Italia Oggi, i pensionati della pubblica amministrazione al lavoro, cosa significa? La legge esclude solo gli incarichi di studio per i pensionati, evidentemente consulenza, dirigenza o direzione, quindi tutti gli altri sono in realtà ammessi a una decisione della Corte dei Conti del Lazio, che apre le porte al lavoro per molti pensionati nella pubblica amministrazione. Metro ci ricorda invece che è in arrivo la zanzara, la stagione estiva e con questa anche diverse malattie che prima non erano una priorità in Italia, come la febbre dengue, dal Friuli Venezia Giulia, l'allerta per la disinfestazione di quelle zanzare che sono potenzialmente infette, un allarme che è passato anche per altre regioni, la Puglia ricorderete qualche tempo fa. L'attesa è infinita nei pronto soccorso, l'apertura invece di leggo, argomento che sta molto a cuore a tutti, stazionamento aumentato del 25% in sei anni, un allarme lanciato già da molti quotidiani in passato, ma adesso è stato certificato che servono addirittura 31 ore di anticamera prima del pre-ricovero e sempre più pazienti anziani, quelli che non possono permettersi cure specialistiche. Lo sport in chiusura, prima di andare al nostro approfondimento, Conte Napoli e l'affare si ingrossa, come diceva un celebre film comico, ma diventa anche molto concreto stando a quello che raccontano oggi i quotidiani. Nasce un Napoli a misura del tecnico, via solo Osimen che servirebbe per fare cassa e comprare gli altri elementi che servirebbero a quello che potrebbe essere il nuovo tecnico per De Laurentiis. La Gazzetta dello Sport, Inter avanti tutti, Oc-Tribe e dei dirigenti tecnico, i big rimangono, ma quello che ci interessa è nel taglio alto. Tocca alla Fiorentina questa sera alzare un trofeo, la finale di Conference con Olympiacos al 21. Prenditi l'Europa, dopo l'Atalanta cercano l'impresa, così anche i Viola. Ci fermiamo appena qualche istante, a tra poco. Ben trovati, ripartiamo dalla guerra in Medio Oriente. Tantissimo da leggere, più che altro le interpretazioni che danno i giornali a quello che è successo ieri. Partiamo dalla cronaca, dallo stato dei fatti, l'assalto finale a Rafat, anche israeliani nel centro della città. Ieri 21 morti in un nuovo raid, la Jihad pubblicando il video di un ostaggio con la rabbia dei familiari, scene che abbiamo già visto nelle foto, nei video che abbiamo trasmesso anche nel nostro telegiornale, che trasmetteremo tra poco con le ultime notizie. Resta dunque Rafat al centro dell'attenzione. Quello che interessa sono i movimenti dell'esercito e soprattutto la diplomazia internazionale. I carri israeliani nel centro della città, ieri altri 21 morti, ma l'IDF in questo caso, cioè l'esercito israeliano, ha smentito non assumendosi la responsabilità. Non ci risulta, l'esercito contesta anche la ricostruzione della strage ben più grave di domenica sera, bombe troppo piccole e distanti per causare l'incendio tra le tende. All'esame dei paesi dell'Unione Europea, l'ipotesi di sanzioni, di altre sanzioni. C'è un'interessante notizia sul Corriere della Sera. Dal corrispondente a Gerusalemme, Bibi teme l'inchiesta, così fece intimidire la procuratrice dell'AIA, dal Mossad. Si parla di Yossi Cohen, ormai in pensione, ex capo del Mossad, in pensione da due anni, e lo stesso Cohen in persona avrebbe tentato, racconta il quotidiano britannico Guardian, di arruolare, non essendoci riuscito, di intimidire la magistrata Fatouba, in suda, allora procuratrice capo della Corte Penale Internazionale, che nel 2015 ha aperto un'indagine per crimini di guerra e contro l'umanità commessi nei territori palestinesi e in Israele. Notizia di cui attendiamo ovviamente una smentita o un seguito, visto che Israele è nuovamente di fronte alla Corte Penale Internazionale e a quella di giustizia, anche se è un organo dell'OMU. Gaza, l'affare della ricostruzione, scrive oggi e domani, tra megaprogetti e ostacoli. Ci racconta oggi e domani, il grande business del dopoguerra, i paesi arabi e la Turchia sono disposti a finanziare, ma chiedono il riconoscimento della Palestina. I privati lavorano per rilanciare le infrastrutture. Per l'ONU ci vorranno almeno 40 miliardi di dollari, trattative che andrebbero avanti nei palazzi di Washington, Londra e Riyadh, nelle tende della città saudita di Alula, dove si incontrano i leader internazionali e stanno pianificando la ricostruzione post-bellica nella striscia di Gaza. Altra cartina, ma ci siamo spostati, come vedete, sul Corriere della Sera e dal fronte medio orientale a quello ucraino. Marta Serafini, oggi cercando di rimettere insieme i pezzi della diplomazia che ieri ha vissuto di nuovi colpi, racconta quei colpi invece di Kiev che vanno già oltre il confine, perché la grande discussione è questa, quali armi dare a Kiev e come potrebbero essere usate queste armi? Colpire semplicemente a scopo difensivo, se possa definirsi difensivo un colpo che va oltre il confine o attaccare direttamente le postazioni da dove partono in Russia i razzi o anche qualcosa in più. Da Belgoro o dalla Crimea le operazioni ucraine in territorio russo sono aumentate quasi mai contro obiettivi civili, ma è proprio sui colpi di Kiev che andranno oltre il confine sull'intensità delle armi che vengono usate che ovviamente i leader internazionali anche ieri hanno preso posizione. Avete visto Macron, Scholz, le posizioni della Nato e la replica di Vladimir Putin. Analisi di Domenico Quirico oggi sulla stampa alla deriva bellicista dei leader che ricorda la guerra del Vietnam. Fa un paragone insolito oggi Quirico per raccontare chi giurava mai soldati in Ucraina si dovrà ricredere perché la diplomazia giace ormai silenziosa in un angolo. Ecco, la parolina è stata pronunciata istruttori, consiglieri, berretti verdi sembra un vocabolo innocuo invece ricordatevi questa data 27 maggio perché quando la guerra quella grande non quella per comoda procura o confortevolmente non belligerante infurierà potrete partire da lì per riflettere con sbigottimento su come è iniziata anche per noi purtroppo non ci aiuterà a soffrire di meno parole pesanti quelle di Domenico Quirico con anche qualche nota diciamo da titolo di giornale ma che fa riflettere la giornata di ieri con Putin che di fatto sfotte Stoltenberg come ci ricorda la verità una volta non era demente e Borrell cioè l'alto rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea che sposa la linea della Nato lo Zara crea una zona a cuscinetto a Kharkiv avverte l'Occidente attenti a quello con cui giocate anche l'alto rappresentante europeo apre all'uso delle armi contro Mosca e dalle posizioni di Putin a quelle dei leader europei con Macron che trascina Scholz le armi occidentali contro le basi in Russia si allarga così il fronte del Sì alcuni paesi hanno fatto cadere il veto dice Borrell c'è da parte dell'Italia il muro di Antonio Tajani che parla per il suo partito ma parla soprattutto da ministro degli esteri dell'Italia e Putin minaccia conseguenze così il messaggero un'asse dicevamo anche leggendo i titoli d'apertura oggi dei quotidiani al caso di Repubblica che si salda anche sul fronte politico e tra poco arriveremo alla politica quella italiana intanto parliamo di quella europea il patto franco tedesco in questo caso è contro le destre con Ursula von der Leyen che perde dell'appoggio di Scholz e dunque l'ipotesi di un secondo mandato per lei tramontano dopo l'apertura di Ursula a Fratelli d'Italia dal vertice con Macron esce l'impegno a blindare l'attuale maggioranza nell'Unione Europea come sapete invece si è parlato di maggioranze alternative prima di passare alla nostra politica passiamo alla politica del Vaticano perché le parole di ieri del Papa al di là del fragore con cui hanno fatto il giro del mondo hanno suscitato diversi interrogativi intanto per cercare di capire cosa ci si è dietro quell'uscita chi abbia fatto la soffiata chi abbia raccontato di queste parole del Papa in un incontro a porte chiuse e quindi sempre di geopolitica stiamo parlando non volevo offendere nessuno ieri il Papa si è scusato nei seminaristi c'è posto per tutti oggi Gian Guido Vecchi che ieri già analizzava la situazione da un punto di vista più diplomatico intervista Monsignor Francesco Savino che è l'attuale vicepresidente della CEI cioè dei Vescovi quelli che erano chiusi in quella stanza con il Papa frase tolta dal contesto e usata per dividere Francesco non è omofobo da lui nessun no a priori il vicepresidente della CEI dunque si smarca parlando ovviamente anche per la conferenza episcopale italiana e dice il messaggio era del tutto diverso ed è stato stravolto dove è la verità? il Papa si scusa per la battuta omofoba c'è spazio per tutti nella chiesa il retroscena raccontato da Repubblica si riassume così curia romana lobby gay e clero conservatore quei messaggi di Bergoglio contro i nemici delle riforme al di là della frase infelice il pontefice ha voluto marcare delle aperture che molti invece osteggiano dunque alla fine sarebbe un punto per il Papa e non contro dietro allo scandalo c'è il duro scontro con la CEI di Zuppi racconta invece Libero c'è il numero uno il capo della conferenza episcopale italiana che in scia al PD e qui la lettura è tutta politica ha dichiarato guerra alle riforme istituzionali premirato su tutto e volute dalla Meloni con la quale il successore di Benedetto ha un rapporto di stima e simpatia e tutto questo ci porta di fatto alla politica italiana abbiamo già visto nei titoli d'apertura quindi non ci dilunghiamo insomma nel raccontare quello che è successo ieri a Caivano prendiamo dall'avvenire la notizia nuda e cruda mantenuta la promessa cancellata la vergogna del Delfinia le letture dei quotidiani sono molto diverse ovviamente qui siamo su Repubblica la gag di Meloni che spiazza De Luca la Premier usa Caivano come un set se ci spostiamo sulla stampa interessante intervento di Flavia Perina che parla del potere di insulto il Papa ieri la Premier che si presenta come ha detto a De Luca così sembra di vivere in un cine panettone tra Ermonnezza e Lino Banfi durissima Flavia Perina commenti diversi sulla stampa di centrodestra vendetta su De Luca sono la Meloni che il governatore aveva insultato con lo stesso epitoto a Caivano prima dell'inaugurazione del grande centro sportivo promesso nove mesi fa la Premier regola i conti in pubblico con chi l'aveva insultata esulta anche il tempo Meloni show a Caivano Caro De Luca eccomi qua ripulito il parco della Camorra botta e risposta tra il Premier e il governatore insomma il tenore dei titoli più o meno è questo andando alle cose concrete giustizia c'è lo sprint del governo con Nordio Aquinale con il dossier oggi il testo in consiglio dei ministri con Mattarella c'è stata questa discussione sull'alta corte per gli innici una lunga discussione racconta oggi il Corriere della Sera che con un Presidente della Repubblica che ha ascoltato attentamente ha fatto dei rilievi l'appello ai magistrati il ruolo delle colle per garantire in futuro l'indipendenza dei PM oggi i giornali raccontano anche quelle che sono le mosse del governo per il giornale sono le condizioni del Presidente Mattarella nessun muro contro muro il Ministro Nordio e il Sottosegretario salgono a colla illustrano il testo colloquio sorelle e costruttivo in campo ci sono i tecnici e oggi scopriremo qualche cosa di più vi faccio vedere anche questa pagina del messaggero perché ha fatto molto rumore e dunque è giusto segnalarla quell'uscita di Marco Tarquinio ex direttore dell'Avvenire che in merito alla politica estera ieri ha detto meglio sciogliere il Nato e diventa così un caso politico ed ecco perché ne parliamo velocemente c'è pronta Ninfa con la Santo dunque anche le notizie del telegiornale vedremo cosa sta succedendo a Rafa abbiamo avuto una certa difficoltà a trovare questa notizia bisogna dirlo forse domani ci sarà qualcosa in più quando avremo i dettagli ma è sicuramente qualcosa che interessa migliaia di persone con l'EMA che ha provato la prima insulina settimanale per il diabete e chi ne soffre sa cosa significa questo passo in avanti arrestato per la terza volta in nove anni il MA di Malili è già edista da Torino chiudo questa edicola di oggi con un fatto davvero curioso quel mistero a Napoli dove sono state rubate anche le batterie dei sensori sismici che servono per l'osservatorio Vesuviano che monitora terremoti e bradisismo ai campi Flegreini fa buongiorno sì Marco buongiorno a te buongiorno ai nostri telespettatori tra poco faremo il punto sulle due guerre su quella in Ucraina la Russia continua a bersagliare il territorio ucraino nella notte Kiev ha abbattuto 13 droni che erano stati lanciati appunto sul suo territorio questo mentre si fa sempre più pesante lo scontro della Nato con Mosca con Putin che ha avvertito nel caso in cui Kiev dovesse utilizzare le armi fornite dall'Occidente per attaccare il nostro territorio le conseguenze sarebbero inimmaginabili poi andremo in Medio Oriente i tank di Israele sono nel centro di Rafah però si spera sempre che si possa raggiungere un accordo con lo cui sono in corso al Cairo dove Israele avrebbe presentato ha presentato una sua proposta poi vedremo nell'arco della giornata con quali sviluppi poi tornando in Italia oggi si parla di riforma della giustizia Palazzo Chigi poi vedremo la bagarre ieri in aula per la riforma sul premierato e poi chiaramente lo sport oggi gioca Sinner e poi la Fiorentina va fuori ad Atene a giocarsi un'altra finale importante tutto questo tra poco nel nostro telegiornale io però do subito la linea a Paolo sotto corona per il meteo Paolo buongiorno grazie grazie buongiorno ci sono un po' di nuvole sull'Italia al momento nessuna pioggia subito a ovest sulla Francia ci sono nuvole e piogge vediamo però come si svolge non è così immediato diciamo il risultato infatti per oggi vedete che al centro-sud soprattutto sulle zone interne quindi sull'Appennino nelle ore del pomeriggio fenomeni anche intensi come in parte è stato anche ieri quella instabilità che si attiva che potremmo dire esplode in qualche maniera nel pomeriggio questo centro-sud centro-nord ma qualche debole pioggia vedete che fra alto Piemonte e alta Lombardia forse qualche fenomeno isolatissimo quindi quella perturbazione che si trova sulla Francia per oggi non si vede vediamo la giornata di domani si attenua l'instabilità al centro-sud dove non ci sono fenomeni significativi ma si rinforza e come su tutte le regioni settentrionali un po' meno su quelle occidentali ma quelle centrali soprattutto quelle orientali Veneto e Friuli Venezia Giulia hanno delle zone in rosso che significa precipitazioni abbondantissime quindi fortissime e vedete che non sono i casi isolati è una zona di maltempo molto forte quindi sicuramente critica e dà allerta e poi la giornata di venerdì in cui centro-sud sempre senza fenomeni nord-ovest in deciso miglioramento anche rispetto a questi fenomeni e invece la parte centro-orientale Friuli Venezia Giulia soprattutto sono altre 24 ore di maltempo fortissimo quindi sono due giorni veramente critici per queste zone le minime di questa mattina ferme su valori quando uno diciamo non se ne accorge o scendo di casa vuol dire che sono valori giusti quindi giusti per la stagione e lo stato dei mari che rimangono sostanzialmente tranquilli meno i canali fra le isole maggiori il mare di Sardegna in parte il mare di Corsica ma parliamo di mari localmente mossi di più non c'è se volete ci vediamo intorno alle 7.55 adesso pubblicità e poi ritorno a Ninfa con la Santo per la prima edizione del nostro telegiornale più tardi a Ninfa e poi ritorno a Ninfa a Ninfa Grazie a tutti